c'è una domanda da casa della chat invece te la giro carlo la suggestione florenzi alto a destra si farà come la vorrei come la vorrei ma già a napoli io è tre giorni che sul mio canale dico scusami simone sì la qualità di messias sì la corsa di selemaker qual è la perfetta sintesi florenzi ma lui è contento di giocare lì perché secondo te lui milan napoli pass contro al vero lo gioca volentieri da titolare chiaramente può intersecarsi con calabria io non voglio se non adesso telefono a pioli sono pioli scusi guardi le mando il tesserina di allenatore alleni lei domani io vado a pescare sul ticino e lei va a milanello e quindi non voglio allora dato che però io posso dare una mia opinione sul come metterei il milan rebic in assoluto può essere una soluzione non questo rebic mi fa un po paura metto al primo minuto ma florenzi la sarebbe un capolavoro cross a girù che non arrivano dalla parte di teo hernandez cross non arrivano ti ricordi anche la fuga bene con l'inter è arrivato in fondo e l'ha tirata direttamente sulla testa di germano lanzoni che per chi non lo sa nel curvino tra il blu e il rosso esatto quindi male e questo cross e florenzi sarebbe è info in condizione psicofisica e poi ti do una notizia tu lo sai gli sta girando intorno al tiro al volo in rete attenzione non abbiamo ancora visto credo un gol di florenzi quest'anno si punizione no no al di là si è sì è sì l'ha sfiorato col con anche un bel tiro da fuori con l'atletico madrid con l'atletico mai uscita di tanto così a milano quindi sarebbe una soluzione perfetta ma non è una soluzione difensiva ma è una soluzione di qualità tu metti che si florenzi a destra e lì florenzi l'altro giorno duettava duettava in mezzo a quattro uomini in maniera splendida non ci sarebbero io io mi auguro che pioli abbia questa intuizione poi se non lo mette pazienza anche perché qualcuno potrebbe dire sì ma però dopo abbiamo solo calabria nessun problema se gli venisse male al naso a calabria debba uscire indietro florenzi metti se la me care messias io in questo momento se la me care molto vivace ma non tecnicamente in al massimo in questo momento il solito benino messias benino messias e io metto florenzi giocatore da fi del semifinale di champions league non so se c'è una telefonata che non ha capito in cuffia se c'è a sì c'è la telefonata però ti portano consigli riporto prima di chiudere il discorso di florenzi una dichiarazione di creazione una considerazione che arriva da casa carlo ma se non avesse avuto la convinzione di farlo già pioli visto il periodo insomma non fantastico del nostro tre quarti secondo te non avrebbe già fatto e io non so cosa dire io io faccio il bar sport con te avrei voluto vedere messias una volta dieci una volta una volta e magari avrebbe avuto le stesse problematiche di diaz e mi piacerebbe non con l'empoli non col cagliari dove può mettere giocatore ma col napoli florenzi la destra perché abbiamo detto di girù e girù va anche indietro per cercare palloni perché l'anno gli arriva proprio quasi mai né alto né basso il girù non sta sbagliando gol non sta sbagliando gol ha sbagliato gol a salerno sì a salerno uno non difficile ecco ma non sta sbagliando e può capitare proprio non tira proprio non non tira un tiro di testa non gli arriva nulla anche perché tra l'altro avrebbe contro forse diciamo così il punto debole della difesa del napoli c'è il giocatore meno qualitativo cioè mario lui più che magari meno qualitativo un giocatore portato all'offesa e magari non 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 strepitoso in difesa ecco altra telefonata pronto buongiorno sono giancarlo da torre del greco buongiorno simone buongiorno carlo buonasera salve allora vorrei augurare innanzitutto a carlo dopo lo spaghettino allo spoglio di salerno che è stato agrodulce gli auguro veramente di fare un pranzetto decisamente migliore sotto l'aspetto dopo la partita intendevo di gustarci a margellina cosa ha chiesto però io ho questo progetto questo programma che è stato rivoluzionato non parto la mattina dovevo partire la sera quasi dopo la partita di mio figlio saremmo volati invece no e mio figlio ha cambiato gli orari quindi lui rimane a casa e io partirò alle arriverò alle quattro e mezzo quindi eventualmente una pizza più che altro intorno alle sette vicino allo stadio ecco l'ascoltatore di torre del greco magari ti può torre del greco ti vengo a prendere carlo se c'è il problema assolutamente sono passato sì perché lì ho fatto tutto per andare a salerno mi sono fatto vietre e tutti questi paesi bello quindi al di là della della cosa culinaria sì della della cosa culinaria perché l'altra volta senti il fatto dello spaghetto agrodolce di salerno quindi che auguravo sotto l'aspetto culinario no ma quello lo spaghetto di salerno era non è agrodolce era agrodolce per il risultato la trasferta ma lo spaghetto era di livello molto era abbinato alla partita chiaramente era abbinato alla partita allora mi hanno anticipato il fatto di florenzi che nella tua intervista diciamo di mattina sposo perfettamente perché inquadro la qualità e la cattiveria carisma professionalità personalità e propulsione sulla fascia io sposerei alla grande e su questo fatto ti voglio chiedere carlo come mai pioli quest'anno è un po restio nel trovare diciamo il coniglio dal cilindro quando la partita è statica o magari ci sono tante difficoltà sembra quasi che i suoi cambi siano legati solo a salemeker messias e le aurebic c'è da dire una cosa nel derby invece era stato detto nel derby vinto non questo ultimo che era stato geniale nei cambi ti ricordi sì sì quanto è entrato diaz entrato quindi non è sempre non è sempre ma anche martedì abbiamo tentato un cambio pesante perché abbiamo tolto tutti tra i tre quarti li abbiamo messi nuovi di pacca a 65 esimo quindi non è sempre così poi sai se le cose vanno bene grande genio io per esempio con l'udinese sai io ognuno dal suo parere non avrei tolto girù perché lo lasciavi là non è che stesse facendo ma tolto girù abbiamo perso anche un po di altezza là capisci quindi certo forza fisica certo grazie per la telefonata intanto buona giornata ciao buona giornata arrivederci ciao chiudiamo con la telefonata perché così ci diamo l'opportunità di avere l'ultimissimo visto che siamo quasi arrivati in fondo alla trasmissione Carlo probabile formazione siamo ancora un po' in alto mare diciamo megnano tra l'altro manca ancora siamo a venerdì noi dobbiamo ancora avere tutta la riferitura di domani bravo megnano calabria più di florenzi che ha giocato tutta la parere vediamo e poi calulu calulu tomori tomori teo hernandez dovrebbe lì adesso cozza le tue cose le tue informazioni dicevano un dia quella mia ma non erano informazioni perché non ha mai provato fino a ieri